L'anno è il 1766. Il cavaliere de la Bar, un giovane protestante francese, osserva il passaggio di una processione di cappuccini attraverso un villaggio del nord della Francia. Non si toglie il cappello. Viene arrestato, incarcerato con l'accusa di bestemmia e condannato. Un nemico della Chiesa è anche un nemico dello Stato. Questa era la Francia Cattolica. Intanto stava per iniziare l'era della ragione. Da chi era composto il popolo cristiano? Qui siamo a Estalpanata, in Messico, un paese che una volta si chiamava Nuova Spagna. In tempi neanche troppo lontani, il sangue che scorreva durante questa processione del Venerdì Santo era un'espressione fin troppo cruda. I discendenti degli Aztechi erano stati convertiti al cristianesimo dai missionari cattolici domenicani, francescani e gesuiti. I soldati romani evocano invece l'arrivo dei conquistadores spagnoli. Essi convertivano con la forza. Con alterni successi, tutti i papi avevano condannato ripetutamente i tentativi di ridurre in schiavitù le popolazioni indigene dell'America Latina. Dovevano essere convertite attraverso l'esempio e la valorizzazione della cultura locale. Più di una volta, i papi avevano riaffermato la necessità di formare un clero indigeno. Ma quali che fossero le indicazioni di Roma, il Messico, come altri stati emergenti dell'America Latina, era in primo luogo un dominio delle potenze coloniali europee. Il potere esercitato sulla popolazione del Messico aveva sede qui ed era nelle mani del re di Spagna. Questo era il potere. Gli stati cattolici d'Europa avevano sempre tentato di limitare l'influenza del papato. La Spagna ci era quasi riuscita. Al papa competevano le verità di fede. Ma era il sovrano a nominare i vescovi e gli abati in tutti i suoi domini. L'intervento pontificio negli affari dello Stato era considerato un'usurpazione dell'autorità sovrana del re. Al potere dei re continuava ad essere associata quella sacralità che sulla terra era rappresentata solo dalla Santa Madre Chiesa e dal papa. Questa era almeno la posizione condivisa dalla grande maggioranza dei fedeli, dal lontano Messico all'Europa. Si trattava solamente di superstizione e di ignoranza? Così, senz'altro, la pensavano molti intellettuali cattolici nell'era della ragione. Gli uomini dell'illuminismo disapprovavano la venerazione delle reliquie e il culto della Vergine Maria. Ritenevano il papa colpevole di difendere la superstizione. La duplice minaccia rappresentata da innovatori illuministi e monarchici si sarebbe manifestata proprio in un paese europeo a grande maggioranza cattolica, la Francia. Re Luigi XIV aveva detto l'età c'est moi, lo Stato sono io. I suoi successori, beatamente inconsapevoli di ciò che stava per accadere, continuavano a credere in questo potere sovrano superiore a tutto, anche alla Chiesa. I sovrani europei consideravano sempre di più la Chiesa come una componente importante della burocrazia dello Stato, uno strumento attraverso cui rafforzare il proprio potere all'interno del regno. Questa idea ebbe il suo culmine dopo il 1780, quando Giuseppe II, imperatore del Sacro Romano Impero, cercò di riformare la Chiesa nei suoi domini, limitando i poteri del pontefice, sopprimendo monasteri di propria iniziativa e dirigendo nuove parrocchie secondo esigenze puramente pragmatiche. Per il re, la cristianità doveva assolvere una funzione pratica, doveva assistere i governanti dello Stato per migliorare le condizioni di vita della popolazione. Ma la gente cosa ne pensava? La stragrande maggioranza di loro non aveva voce in capitolo negli affari di Stato e non avevano peso nemmeno nei dibattiti degli intellettuali illuministi. La gente si limitava a tirare avanti, vivendo una vita spesso fatta di genuina devozione, altre volte di superstizione. Eppure erano proprio questi elementi a dare colore e significato a un'esistenza di fatiche. Giuseppe II d'Austria, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1780, era un convinto cattolico che si preoccupava di risolvere tutti quei problemi che riteneva di sua competenza. Nel corso dei secoli, i monasteri d'Europa erano diventati ricchi e talvolta i monaci vi conducevano una vita principesca. Giuseppe soppresse le comunità religiose dedite esclusivamente alla preghiera e alla contemplazione. Mantenne in vita, invece, quelle che si dedicavano ad attività di valore sociale come l'insegnamento e l'assistenza e naturalmente nel farlo non consultò il Papa. Fu proibito l'impiego di tessuti preziosi per i paramenti dei santi e delle statue. Fu proibito il bacio delle immagini sante e delle reliquie. Furono limitate a 14 le candele sull'altare. Una riforma dopo l'altra e risultarono quasi sempre sgradite al popolo. Oggi il Papa ha il diritto esclusivo di scegliere e nominare i vescovi agli arcivescovi della Chiesa Cattolica. Il pallio è il simbolo del potere spirituale concesso dal Papa agli arcivescovi metropoliti. È una tradizione che risale all'antichità ma che nel XVIII secolo era stata svuotata del suo significato reale. A quel tempo il sovrano influiva direttamente o indirettamente sulla nomina dei vescovi. Sarebbe stato arduo per qualsiasi Papa del XVIII secolo tenere testa al potere del sovrano. L'ultimo Papa del XVIII secolo fu Pio VI. Sotto l'altare maggiore di San Pietro c'è la cripta dei papi dove il monumento di Pio VI ha una posizione di rilievo come quella che cercò di avere durante il suo pontificato. Egli era senza dubbio un sovrano ma sarebbe stato capace di tenere testa a Giuseppe II? Pio VI andò a Vienna per convincere l'imperatore a cambiare politica ma senza alcun risultato se ne tornò a Roma a mani vuote. Durante il lungo viaggio fu però salutato da grandi folle che lo applaudirono ovunque tra l'Italia, l'Austria e il sud della Germania. Questa accoglienza avrebbe significato molto per il futuro poiché mostrò al Papa che doveva cercare il vero incondizionato sostegno nelle grandi masse cattoliche che in lui vedevano una garanzia di sicurezza per la vita terrena e ultraterrena e non certo nei loro sovrani. Il viaggio a Vienna non aveva ottenuto risultati immediati. La Chiesa continuava ad essere una sorta di ministero dello Stato. Ma tutte quelle folle che lo festeggiarono inchinandosi al suo passaggio avevano accresciuto la dignità di Pio VI. Egli contribuì ad abbellire i musei vaticani e la basilica di San Pietro alla quale donò una grande campana. Il regno di Francia era intanto sulla soglia di una rivoluzione una rivoluzione popolare. La Francia era una società fortemente polarizzata tra chi aveva molto e chi non aveva nulla. L'aristocrazia controllava ogni ambito del potere. La nobiltà viveva nel lusso e lo condivideva coi vertici della Chiesa. Quasi tutti i vescovi erano facoltosi aristocratici mentre circa un terzo dei parroci di campagna viveva appena sopra o persino al di sotto del livello di sussistenza. Quando furono decise nuove tasse ancora una volta a spese dei più poveri esplose la rivolta. Il re fu costretto a intervenire. Convocò gli stati generali composti da nobiltà a clero e terzo stato che rappresentava il 93% della popolazione. L'assemblea si concluse nel caos e la maggioranza si ritirò qui nella vicina sala della pallacorda. Il presidente Sylvain Baili fu circondato da 1200 persone mentre il clero sotto la pressione della folla parigina si schierò con il terzo stato. L'autonomia della Chiesa di Francia era ormai finita. Il 26 agosto l'assemblea votò la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Libertà, eguaglianza e diritto di proprietà divennero diritti inalienabili. Il re sarebbe stato un monarca costituzionale non più al di sopra della legge. In ottobre l'assemblea vietò a chiunque di emettere i voti religiosi. A novembre l'intera proprietà della Chiesa di Francia fu confiscata dallo Stato. Il destino di Cluny è l'esempio più chiaro di ciò che accadde agli ordini religiosi. Dopo che 38 dei suoi 40 monaci avevano svestito l'abito religioso andandosene via il più prestigioso monastero del Medioevo subì una fine indegna. Demolito venne venduto a pezzi come materiale da costruzione. Nel giugno del 1790 gli abitanti dell'enclave vaticana di Avignone già città dei papi rigettarono il potere pontificio e chiesero l'incorporazione nella Francia. I rivoluzionari stavano vincendo ormai su tutti i fronti e ora volevano mettere mano all'organizzazione della chiesa questa volta per riformarla a loro piacimento. Nel mese di luglio fu promulgata la costituzione civile del clero i suoi principi furono devastanti. Gli ecclesiastici sarebbero diventati funzionari salariati dello Stato. Sacerdoti e vescovi sarebbero stati eletti dai rappresentanti del popolo senza nessuna consultazione del Papa. Alla fine di novembre venne richiesto a tutti i membri attivi del clero di prestare giuramento di fedeltà alla nazione francese. Di fronte a questa violazione dei diritti della chiesa il clero si rivolse a Roma. Alla richiesta d'aiuto del clero francese Pio VI rispose con il silenzio. Fu un errore fatale. La Francia aveva dato vita a una chiesa costituzionale. abolendo la monarchia e giustiziando il sovrano e la sua famiglia la rivoluzione superò il punto di non ritorno. Impotente Pio VI pensò che protestare sarebbe stato inutile. Vedo profilarsi tremende sventure ma non ho nulla da dire. Le sventure arrivarono presto. Era iniziato il regno del terrore. Migliaia di sacerdoti che avevano rifiutato di piegarsi al giuramento di obbedienza allo Stato fecero la fine del loro re. Le immagini del Papa alimentarono i falò. Furono invasi i conventi e aggredite le suore. Nelle chiese furono organizzati balli in maschera e interi monasteri vennero distrutti. 40.000 uomini di chiesa abbandonarono la loro terra per sfuggire alle persecuzioni. La rivoluzione si concentrò poi sui semplici cristiani e il culto dell'essere supremo venne celebrato in maniera spettacolare ai campi di Marte di Parigi. Lo scopo era quello di incoraggiare il nuovo senso civico, la moralità repubblicana e lo sradicamento della fede cristiana. Seguirono i rituali pagani della fertilità. I preti vennero costretti a sposarsi, i vescovi a celebrarne i matrimoni. A Parigi la fede cristiana sembrava ormai morta o comunque moribonda. Ma non a Roma. Qui le notizie delle atrocità commesse in Francia avevano animato l'opposizione popolare contro gli ideali rivoluzionari francesi. Lunga vita alla religione cattolica, lunga vita al Papa. Queste erano le acclamazioni che si alzavano da Piazza San Pietro. La rivoluzione francese come tutte le vere rivoluzioni che avvengono nella storia fu senz'altro un grande dramma ma soprattutto fu una grande rivelazione. Cioè la rivoluzione francese rivelò quello che già esisteva. e che molti non avevano ancora capito. E cioè che in Francia l'antico regime rappresentato dalla monarchia e dall'aristocrazia era soltanto un castello di carte e che il vero padrone del paese era la borghesia. Ora la borghesia francese in parte era anche illuminista volterriana quindi razionalista atea antireligiosa anticristiana anticlericale perciò abbattendo la monarchia e l'aristocrazia credette di poter abbattere anche la chiesa ritenuta alleata dell'antico regime e qui si sbagliò. Si sbagliò perché la monarchia e l'aristocrazia erano sì dei castelli di carte ma la chiesa no. L'aristocrazia e la monarchia come si sa poterano tornare al potere con le restaurazioni dell'inizio dell'ottocento ma poi scomparvero definitivamente. La chiesa non era la monarchia non era l'aristocrazia la chiesa aveva alcuni rappresentanti legati alla monarchia e all'aristocrazia ma la chiesa in Francia come in tutti gli altri paesi era anche buona parte della borghesia era soprattutto il mondo contadino. Ecco perché nonostante le persecuzioni contro il clero nonostante le persecuzioni contro la chiesa nonostante la proclamazione dell'essere supremo nonostante addirittura la proclamazione dell'ateismo di stato avvenuto sotto d'Anton nonostante tutto questo la chiesa non morì come invece cominciarono a morire la monarchia e l'aristocrazia la chiesa non morì anzi si rigenerò e dopo la rivoluzione francese passato il turbine delle ghigliottine la nuova elite al potere borghese cioè il direttorio prima e Napoleone dopo dovettero scendere a patti col cattolicesimo possiamo dire che in questo senso gli effetti della rivoluzione francese sono tuttora validi perché in qualche maniera essa ha poi agito attraverso le altre rivoluzioni che sono succedute in seguito ad esempio attraverso la rivoluzione comunista anch'essa ha creduto di poter eliminare la chiesa e la religione e anch'essa ha fatto fiasco però il movimento rivoluzionario non è finito oggi la chiesa non deve più affrontare una rivoluzione settoriale come quella della borghesia in Francia o come quella del proletariato in Russia deve affrontare rivoluzioni molto ma molto più vaste e più micidiali la rivoluzione del femminismo la rivoluzione giovanile la rivoluzione della globalizzazione la rivoluzione del neocapitalismo più o meno rampante e allora è sempre valido il principio che senz'altro ogni rivoluzione è una rivelazione ma la vera rivelazione quella cristiana è al di sopra di tutte queste vicende la Francia nel frattempo era entrata in guerra con l'Europa le sue divisioni avanzavano nei territori austriaci dell'Italia settentrionale fu un successo dopo l'altro l'esercito francese era guidato da Napoleone Bonaparte il giovane generale rivoluzionario era arrivato in Italia mentre la sua armata marciava verso sud vincendo tutte le battaglie egli avrebbe destato una profonda impressione sul paese e sul papato il trionfo francese in Italia costrinse il papa a fare umilianti concessioni che non furono comunque sufficienti quando a Roma venne ucciso un giovane generale francese le truppe fecero irruzione dentro la città Roma venne dichiarata repubblica il papa aveva ormai i francesi sulla porta di casa ciò che accadde in seguito lo sconvolse in piazza San Pietro venne eretto un altare pagano per celebrare il successo della repubblica ma il peggio doveva ancora venire palazzi pinacoteche e chiese vennero saccheggiate i tesori della chiesa divennero facile bottino sembrava essere tornato Attila ma questa volta Roma non aveva un papa come Leone Magno a proteggerla e il saccheggio proseguì oggetti in oro quadri del rinascimento manoscritti preziosi della biblioteca vaticana a titolo di indennizzo in un solo giorno venne raccolto e inviato verso la Francia oro e argento per un valore di 15 milioni di scudi oltre a dipinti arazzi e pietre preziose una volta ultimato il saccheggio le autorità francesi diedero al papa tre giorni di tempo per lasciare la città quando pregò gli ufficiali di lasciarlo morire a Roma gli fu risposto brutalmente che per morire qualsiasi posto andava bene quando salì a bordo della carrozza che lo portava via il papa era un uomo di 80 anni fragile e gravemente malato gli venne posta intorno al collo una teca contenente la santa eucarestia il successore di Pietro fu strappato dal cuore di Roma con il favore dell'oscurità fu un atto sacrilego Pio VI morì prigioniero dei francesi in Francia il clero locale succube della rivoluzione gli rifiutò persino il funerale cristiano Pio VI aveva regnato per oltre 24 anni quando morì il mondo vide in lui un martire e il martirio cancellò la memoria delle critiche ricevute in vita Pio VI era stato debole e indeciso quando si trattò di agire aveva permesso ai monarchi europei di cambiare la rotta della chiesa in Francia c'era mancato poco che la rivoluzione francese non la distruggesse completamente Napoleone doveva ora affrontare un differente avversario nel suo successore Pio VII provava una certa simpatia per la rivoluzione ma non avrebbe accettato nessun compromesso finché la chiesa fosse rimasta sotto la minaccia napoleonica da Vienna l'imperatore d'Austria aveva sperato nell'elezione di un papa fermamente antifrancese che eventualmente avesse rinunciato ai territori pontifici in suo favore l'esperienza però aveva intanto insegnato a Napoleone che un popolo deve avere una religione per lui la religione era uno strumento di coesione della nazione il 5 giugno del 1800 tenne al clero milanese un discorso sorprendente sono certo che la religione cattolica sia l'unica religione capace di rendere stabile e prospera una comunità l'unica in grado di assicurare le basi per un buon governo dello stato io mi impegno a difenderla sempre in privato sembra avesse detto dite al papa che ho intenzione di portargli in dono 30 milioni di francesi ma trovare un accordo con Pio VII non fu affatto facile i negoziati si trascinarono per otto mesi Napoleone esasperato minacciò perfino di farsi calvinista e di trascinare con sé tutta l'Europa alla fine fu però firmato un concordato che riconobbe lo status privilegiato del cattolicesimo come religione della maggioranza dei cittadini francesi i nuovi vescovi sarebbero stati nominati dal primo console ma solo il papa avrebbe potuto investirli dell'autorità necessaria a svolgere le loro funzioni spirituali il concordato aveva trasformato i rapporti tra il papato e la Francia innanzitutto il concordato riporta il papa sulla scena mondiale Pio VI nel 1799 era morto prigioniero in Francia e la gente lo aveva definito l'ultimo papa si dava per scontato che dopo la rivoluzione atea non ci sarebbe stato nessun altro pontefice il concordato invece ripropone il ruolo della chiesa riporta in scena un potente papato che ridà forma all'intera chiesa di Francia il papa ha di nuovo il potere di destituire i vescovi e di nominare i loro successori in questo modo trasforma nuovamente il profilo del papato il concordato chiarisce che esistono dei poteri che solamente il papa può esercitare e che persino gli stati laici dovranno rispettare si racconta che Napoleone abbia detto che se il papa non fosse esistito sarebbe toccato a lui inventarlo Napoleone si pentì amaramente di aver firmato il concordato ma intanto quella riappacificazione gli assicurava immensi vantaggi politici il ristabilimento del culto cattolico in Francia fu per molti l'atto politico più popolare mai compiuto da Napoleone Napoleone invitò papa Pio VII a Parigi voleva che il papa legittimasse la sua autorità imperiale il papa si trovò di fronte a un vero dilemma perché qualcuno già lo chiamava cappellano di Napoleone accettare non avrebbe forse rischiato di peggiorare la sua reputazione in tutto il resto d'Europa per il bene della chiesa decise dunque di accettare e raggiunse la Francia acclamato dal popolo ma accadde un imprevisto la sera prima della cerimonia Giuseppina confessò in lacrime al pontefice che lei e Napoleone non si erano mai uniti in matrimonio con il rito cristiano il papa volle porre rimedio a questo stato di cose Napoleone riluttante accettò e così in gran segreto si sposarono quella notte stessa di fronte al cardinale Feche zio di Napoleone il giorno successivo le campane accompagnarono l'incoronazione nella cattedrale di Notre Dame per Napoleone e per la città di Parigi quel giorno evocava la memoria di Carlo Magno per il nuovo imperatore significava essere superiore al papa per il papa significava esercitare un potere sull'imperatore all'ingresso del papa nella cattedrale il coro intonò il tu es Petrus tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa l'autorità e la santità del papa tornavano a contare nell'ambito della politica mondiale ma a gestire la cerimonia volle essere Napoleone stesso e gli si incoronò da sé e poi incoronò l'imperatrice al papa fu assegnato un ruolo secondario quello di cappellano dell'imperatore ma il popolo non la vide così i rapporti tra i due uomini peggiorarono rapidamente incoronato re d'italia alcuni mesi più tardi Napoleone dichiarò l'italia è un amante che non dividerò con nessuno ma nemmeno il papa intendeva dividerla con qualcuno tanto meno intendeva condividere i possedimenti pontifici tutti i tentativi fatti da Napoleone per ottenere da Pio VII la rinuncia al suo potere temporale caddero nel nulla Pio VII dunque venne caricato su una carrozza e trascinato qui a Fontainebleau disperato e solo lontano dai suoi sostenitori la storia si ripeteva il papa era nuovamente prigioniero dei francesi Pio VII arrivò in Francia più morto che vivo e venne confinato nei suoi appartamenti il concordato era ormai ridotto a un pezzo di carta Roma era nuovamente sotto il gioco francese Napoleone aveva divorziato da Giuseppina e si era risposato questo passaggio che univa gli appartamenti di Napoleone a quelli del papa venne percorso molto spesso Napoleone diventò furioso col papa si dice che afferrò Pio VII tirandolo per il vestito e lo forzò fisicamente a firmare un documento di rinuncia totale al suo potere temporale ma in seguito Pio VII lo definì un documento privo di valore poiché firmato sotto minaccia il papa pentito della sua debolezza riacquistò la sua forza di carattere e ripudiò totalmente il cosiddetto concordato di Fontainebleau egli non si sarebbe mai arreso ma nel frattempo era lo stesso Napoleone che venne a trovarsi in una situazione molto critica il suo esercito era bloccato nel gelo alle porte di Mosca e il 12 aprile 1814 abdicò sei settimane più tardi papa Pio VII tornò a Roma in trionfo lungo la strada che lo conduceva in San Pietro 30 giovani rappresentanti delle più importanti famiglie capitoline gli facevano largo tra la folla al rovesciamento di Napoleone e alla successiva dissoluzione del suo impero andava fatta seguire la ricostruzione dell'Europa le lancette dell'orologio dovevano essere riportate indietro tutto doveva sembrare come se la rivoluzione francese non ci fosse mai stata questo compito venne affidato al congresso di Vienna il principio che guidava i lavori era quello di restaurare i precedenti regimi tutti i paesi compresi quelli protestanti come la Gran Bretagna erano decisi a restituire al papa i territori perduti e fu così che venne ricostituita l'Italia quell'eterogeneo mosaico di stati che Metternich definiva una mera espressione geografica con al centro lo stato pontificio il congresso di Vienna definì la politica della restaurazione in Europa obiettivo demolire tutto ciò che era stato fatto dalla rivoluzione e restaurare per quanto possibile le antiche monarchie il papato da parte sua era la più antica di tutte le monarchie e gli architetti del congresso di Vienna uomini come Metternich volevano che il papato svolgesse una funzione simbolica di legittimazione dell'antico sistema monarchico l'effetto complessivo di quel ritorno al passato fu di legare il papato ai monarchici alla reazione ai conservatori che si opponevano a qualsiasi cambiamento la dignitosa resistenza opposta da Pio VII a Napoleone aveva lasciato la Santa Sede in una posizione di prestigio alla sua morte l'orologio della storia fu riportato ancora più indietro il suo successore Leone XII era senza dubbio un uomo di fede ma era anche un uomo che non rifiutava lo scontro avviò a Roma una fase di restaurazione che sarebbe stata portata avanti dal suo successore ne soffrì in primo luogo la cultura francese i mobili di stile francese furono gettati fuori dai palazzi le piante francesi strappate dai giardini alle donne furono proibiti gli abiti attillati della moda francese fu proibita l'illuminazione a gas introdotta dai francesi gli ebrei liberati dalla rivoluzione furono obbligati a tornare nel ghetto e fu loro vietato di avere proprietà personali furono proibite tutte le transazioni economiche tra ebrei e cristiani alle locande fu proibita la vendita di alcolici domeniche e feste comandate dovevano essere rigidamente osservate le carceri romane si colmarono fino a scoppiare la nomina di Gregorio XVI non diminuì l'opera della restaurazione sospettoso di qualsiasi innovazione fece proibire all'interno dello stato pontificio persino la ferrovia sotto la sua guida il papato mantenne una rigida forma monarchica e lo stato pontificio rimase sotto il controllo del clero fu più un governante che un pastore d'anime gli effetti del suo regno si fecero sentire ben al di là dei confini italiani la Russia era un paese profondamente cristiano ma non era mai stato un paese cattolico lì infatti dominava in contrastata la chiesa russa ortodossa lo stato era retto da un sovrano lo zar per Nicola I deciso a imporre la propria fede ortodossa ai popoli cattolici dell'Europa orientale in Polonia la resistenza all'oppressione russa si raccolse intorno alla chiesa e quando lo zar ordinò una feroce repressione i polacchi si appellarono al papa papa Gregorio rispose ordinando loro di sottomettersi al vostro potente imperatore che ha a cuore il vostro bene la monarchia era concessa per diritto divino e i sovrani dovevano restare uniti la voce dei popoli e degli ideali liberali non raggiungevano le orecchie del papa quella decisione gli alienò alcune delle forze più vitali esistenti nella chiesa in Francia per esempio un gruppo di giovani cattolici si raccolse intorno a Felicité de la Menée un brillante sacerdote che cercò di opporre il principio dell'infallibilità papale alla reazione monarchica egli affermava che le monarchie erano una piaga e che la chiesa doveva schierarsi a fianco dei popoli il papa spiegavano i suoi seguaci deve mettersi alla testa del movimento per le libertà politiche deve liberare i popoli dalle catene per condurli in una civiltà cristiana basata sulla dignità di tutti a Roma queste idee furono accolte positivamente perché sembravano andare a favore del papato ma quando Gregorio XVI si rese conto che queste idee avrebbero spalancato la porta al cambiamento anche nello stato pontificio le avversò con ogni mezzo prima di vedersi respingere le proprie idee da papa Gregorio della Menée fece anticamera per tre interi mesi disilluso si ribellò al papa e alla curia definì Roma una grande tomba piena solamente di ossa nella basilica di San Pietro in Roma si erge la statua dell'apostolo Pietro se si deve credere alla tradizione il suo fu il più lungo regno pontificio prima di quello di Pio IX con l'elezione di questo papa l'Europa si trovò di fronte ad un'apparente contraddizione un papa liberale Pio IX era innanzitutto un patriota che condivideva le aspirazioni di unità nazionale degli italiani alla sua elezione nel 1846 le folle gridavano lunga vita a Pio IX avrebbero avuto ciò che chiedevano infatti occupò il soglio pontificio per 30 anni ebbe a che fare con un'Italia in fermento un fermento che si sarebbe riflettuto anche nella personalità del papa Pio IX è stata una figura straordinariamente contraddittoria da un lato fu un convinto e appassionato patriota italiano amava l'Italia rifiutava la presenza straniera nella penisola e sognava di vedere gli italiani uniti governarsi da soli nei primi anni del suo pontificato la gente pensò che si sarebbe messo alla testa del movimento per la liberazione e l'unificazione dell'Italia per secoli i papi erano stati i veri sovrani d'Italia e dunque a molti cattolici teologi compresi appariva assolutamente plausibile che il pontefice diventasse il presidente di una federazione italiana gli idealisti sognavano un'alleanza tra il papa re Carlo Alberto e Garibaldi ma nel 1848 anno di rivoluzioni in tutta Europa giunse il tempo della disillusione gli italiani si prepararono alla guerra per espellere l'esercito austriaco e in molti si rivolsero al papa perché si mettesse alla testa del movimento ancora oggi l'esercito italiano celebra l'indipendenza del paese nel 1848 erano in molti a credere che il papa avrebbe dovuto essere il presidente di un'Italia unita ma il supposto liberalismo del papa era soltanto superficiale egli sapeva bene che in un'Italia unita il papa avrebbe perso il suo potere non avrebbe quindi preso parte alla guerra contro l'Austria cattolica affermava i popoli devono sottomettersi al loro legittimo governo nel volgere di una notte divenne l'uomo più odiato d'Italia quando a Roma scoppiò la rivoluzione il papa travestito da semplice sacerdote trovò scampo sotto la protezione del reazionario regno di Napoli la luna di miele liberale era ormai finita Pio IX riteneva che per essere spiritualmente libero il papa dovesse necessariamente avere un proprio territorio ma i territori vaticani dominavano il centro della penisola e includevano Roma simbolo e cuore dell'Italia i suoi territori sarebbero stati inclusi nel nuovo stato unitario inclusi con la punta delle baionette un monumento commemorativo di Garibaldi guida del risorgimento italiano domina trionfante la città agli occhi di Pio IX Garibaldi era un altro Napoleone dedito a depredare il patrimonio della chiesa la chiesa e lo stato italiano si scoprirono acerrimi nemici il risorgimento ora anticlericale e rigidamente secolare era diventato il nemico di Cristo e del suo vicario in terra una brigata internazionale appositamente costituita in difesa del Papa fu spazzata via dalle truppe italiane ma paradossalmente fu proprio l'occupazione dello stato pontificio ad accrescere la statura spirituale del Papa per molti cattolici il pontefice era divenuto l'icona del Cristo sofferente il cuore di un mondo senza più cuore lo stesso cattolicesimo stava ormai cambiando alla pietà esteriore che aveva dominato il tempo dell'illuminismo si andava ora sostituendo una religiosità più profonda e sincera fu in quegli anni che una giovane contadina di nome Bernadette Subiru ebbe l'apparizione della Beata Vergine Maria che richiamava il mondo alla preghiera e alla penitenza accadde nel 1858 nel villaggio francese di Lourdes Nel giro di una sola generazione Lourdes divenne il principale luogo di pellegrinaggio dei cattolici e tale è rimasto Oggi viviamo l'era dei trasporti veloci dei cibi preconfezionati delle emozioni a buon mercato e l'apparizione di Lourdes coincise con l'alba di questa nuova era nasceva l'era della ferrovia i pellegrini arrivavano a migliaia da tutta Europa a bordo di carrozze trainate dalle locomotive a vapore gli stessi mezzi di trasporto di massa che li avrebbero portati a Roma per venerare San Pietro e il Papa era il tempo della prima produzione di massa della prima editoria economica di immagini e oggetti religiosi a poco prezzo i cattolici dell'Africa e delle Americhe avevano sempre desiderato esporre un ritratto del Papa un crocifisso o una piccola statua della Vergine ora i più possono permettersi tutti e tre questi oggetti di devozione il volto di Pio IX divenne più famoso di quello di qualsiasi altro Papa della storia in un'epoca razionalistica come la nostra c'è chi scuote la testa di fronte a scene come questa molti intellettuali facevano la stessa cosa ai tempi di Pio IX quattro anni prima dell'apparizione di Lourdes Pio IX definì solennemente la dottrina dell'immacolata concezione a Lourdes la signora dell'apparizione si era rivolta a Bernadette dicendo io sono l'immacolata concezione l'Urde non sarebbe mai stata ridotta dai ragionamenti dei razionalisti al luogo di sciocche superstizioni da questo luogo ebbe invece inizio un rinnovamento della fede popolare il culto di Maria era ormai intimamente legato alla fedeltà nei confronti del Papa fu un processo facilitato dalla personalità del Pontepice un uomo avvicinabile semplice e sempre sorridente ma per quanto fosse geniale Pio IX avallò il movimento piuttosto intollerante degli ultramontani che condannavano i valori secolari e liberali perché a loro avviso rappresentavano l'eredità avvelenata della rivoluzione francese denunciarono alcuni tra i più ferventi cattolici per aver osato criticare la politica vaticana ed esaltarono gli insegnamenti del Papa come l'unica possibile fonte di verità nel 1869 Pio IX invocò un concilio ecumenico il Vaticano I uno degli argomenti posti sul tappeto fu la questione dell'infallibilità papale e l'assemblea si divise tra la posizione degli ultramontani e quella della minoranza moderata che teneva di vedere tagliati tutti i ponti con il mondo laico e con le altre confessioni cristiane il 18 luglio del 1870 in un clima di grandi pressioni e di aspre discussioni il concilio definì solennemente la dottrina dell'infallibilità del Papa in quel preciso momento si andava formando su Roma un temporale estivo nella pioggia torrenziale i commentatori maligni videro un segno Dio è arrabbiato dissero il cardinale Manning leader degli ultramontani rispose sarcastico avete dimenticato i tuoni del monte Sinai l'Europa liberale era sgomenta come ci si poteva fidare dei cattolici ora che avevano affidato le loro coscienze e la loro piena fedeltà al comando di un maestro infallibile il governo britannico di Gladstone pensò seriamente di inviare una nave da guerra per impedire la proclamazione del nuovo dogma ma esattamente che cosa era stato definito dal concilio afferma che ogni volta che il Papa agisce nella sua qualità di capo della chiesa in materie concernenti la fede e la morale condivisa dall'intera chiesa egli è preservato da qualsiasi possibilità di errore l'infallibilità opera dunque in forma di impedimento impedisce alla chiesa di andare fuori strada non è qualcosa a cui si può far ricorso abitualmente e in effetti nella storia della chiesa e fino alla sua definizione dogmatica vi si era fatto ricorso in maniera solenne una volta sola i lavori del concilio vaticano primo non furono mai conclusi il giorno successivo la definizione dell'infallibilità del Papa esplose la guerra franco-prussiana la guarnigione francese lasciata a Roma a difesa del pontefice venne richiamata in patria e le truppe di Vittorio Emanuele re d'Italia entrarono in città il 20 settembre 1870 dopo 15 secoli il regno dei papi non esisteva più il pontificato di Pio IX si chiuse in un clima di ombre e di scontri il Papa non avrebbe più lasciato il Vaticano e quando morì un manipolo di fanatici patrioti nazionalisti cercò di gettare la sua bara nel Tevere il papato aveva perso il suo potere temporale ma in termini di prestigio spirituale era asciutto sceso ad altezze vertiginose alla morte di Pio IX molti cattolici credettero però che il duro clima di scontro che aveva caratterizzato gli ultimi anni del suo pontificato avesse messo la chiesa alle corde il successore di Pio IX Leone XIII era un uomo molto diverso dal suo predecessore aristocratico aristocratico ed intellettuale raffinato si rifiutò anche egli di dare la tradizionale benedizione papale a Roma e al mondo intero non abbandonò mai l'idea di riappropriarsi di Roma e fu questo miraggio a impedire qualsiasi accordo concreto con lo Stato italiano ai cattolici italiani venne perfino proibito di partecipare alle elezioni politiche al di fuori dei confini italiani la sua fu invece una politica contraddistinta da realismo e tatto senza mai approvare esplicitamente la democrazia Leone XIII pensava tuttavia che la chiesa non potesse andare avanti senza di essa le vicende che avevano contraddistinto il regno di Pio IX avevano frenato lo sviluppo della teologia con grande prudenza Papa Leone XIII volle rilanciarne lo studio gli archivi vaticani si aprirono ai ricercatori il teologo inglese John Henry Newman pur essendo stato oppositore dell'infallibilità papale fu nominato cardinale ma fu nel campo del pensiero sociale che Leone XIII compì una significativa svolta rispetto al passato la prosperità dell'era dell'industrializzazione era stata edificata sul sudore della povera gente nelle immense periferie delle città industriali dell'occidente la povertà aveva raggiunto un livello impressionante i pontefici precedenti avevano risposto solamente con la denuncia del socialismo e predicando la rassegnazione ai poveri e la carità ai ricchi Papa Leone volle andare oltre la carità per parlare della giustizia sociale e dei diritti dei lavoratori con la sua enciclica Rerum Novarum del 1891 si impegnò ad applicare i principi cristiani alla morale del mondo industriale andavano posti dei limiti al liberismo lo Stato dichiarò il Papa doveva assicurare a tutti un salario minimo i lavoratori aggiunse hanno il diritto di riunirsi in associazioni sindacali e persino di scioperare era iniziata un'era nuova dell'insegnamento sociale della Chiesa Cattolica la Rerum Novarum è un'enciclica che parla della condizione operaia del lavoro dei lavoratori e quindi affronta quella che si chiama la dottrina sociale della Chiesa ora la dottrina sociale della Chiesa è sempre esistita esiste in Germe del Vangelo esiste nelle opere dei Santi Padri esiste in molte opere della prima e della seconda scolastica esiste poi nelle opere dei precursori della Rerum Novarum degli uomini che hanno preparato la Rerum Novarum allora dove sta la novità di questo documento pontificio la novità consiste nel fatto che Leone XIII primo tra i papi pose all'ordine del giorno una questione di carattere sociale sociale in termini non soltanto religiosi ma anche per dir così filosofico sociologici in che cosa consistette il profetismo di Leone XIII primo consistette nel denunciare i rischi a cui andava incontro il capitalismo selvaggio e questo lo si vide negli anni successivi con la prima guerra mondiale con la grande crisi del 29 con la seconda guerra mondiale e con tutto quello che è successo dopo secondo con la denuncia dei rischi a cui si andava incontro col comunismo Papa Leone XIII previde previde con anni e anni di anticipo che una rivoluzione comunista avrebbe portato i paesi coinvolti in una rivoluzione del genere in un vero e proprio baratro in un vero e proprio complesso di rovine ed è quello che si incaricò di dimostrare in 1989 e Giovanni Paolo II richiama infatti questo anno fatidico in 1989 ponendolo in relazione proprio con le profezie di Leone XIII un altro grande elemento profetico dell'incirchica Rerum Novarum del Leone XIII consiste nel fatto della denuncia della lotta di classe lotta di classe che dovunque si è verificata ha portato sicuramente più danni che vantaggi mentre la via più sicura per provvedere è quella delle riforme e della concertazione parola magica che oggi è sulla bocca di tutti e infine ultimo elemento importante del profetismo della Rerum Novarum di Leone XIII è la rivelazione che la Chiesa si sente impegnata nella difesa dei diritti umani Leone XIII non parla di tutti i diritti umani nella sua encifica parla però dei diritti fondamentali dal punto di vista economico e sindacale parla ad esempio del diritto al giusto salario parla del diritto all'associazione degli operai tra di loro eccetera eccetera è un discorso che Leone XIII ha iniziato e che è stato poi sviluppato dai suoi successori in particolare Pio X I Pio X II Papa Giovanni Paolo VI e Giovanni Paolo II ma Leone all'interno della Chiesa restava il Papa infallibile e tra le mura del Vaticano regnava come un sovrano alla comunità dei credenti egli si presentava come il portatore di un insegnamento universale cui tutti dovevano completa obbedienza le sue denunce del socialismo venivano ripetute dai pulpiti delle Chiese Ortodosse di Russia con il sostegno e l'approvazione dello zar Nicola II ma non tutti i russi le ascoltavano tra costoro c'erano i bolshevichi e proprio loro sarebbero diventati il maggiore problema della Chiesa nel ventesimo secolo Maria e Matte grazie dolci sparenz clemenzie tu no la poste prote grazie grazie grazie